Grazie, buongiorno a tutti, io do il benvenuto a tutti i presenti, in particolare ai relatori e do questo benvenuto anche al nome del Presidente, il Professor Milano, il quale si scusa per non poter essere presente ma io qui la mia cucina risulta accesa, non so se passano, sarà un problema di intercensione, si sente così, forse bisogna tenerlo più vicino Il Professor Milano preside, anzi come meglio oggi si dice di lettore di dipartimento di questa che non è più facoltà ma è il dipartimento di giurisprudenza perché così si vuole nelle altre sfere e quindi dicevo è impegnato il Vaticano il promotore di giustizia questa mattina e quindi si scusa per la sua assenza che mi ha pregato e di ricorgere ovviamente il saluto di benvenuto e poi devo presentarvi le cose anche del Professor Alessio Zaccaria ben noto a tutti attualmente non soltanto della sua veste accademica ma anche della sua veste di componente del Consiglio Superiore della Magistratura il quale è stato colpito da un'influenza quindi ieri sera è dovuto partire per tornare a casa sua a ferrare appunto con la ferra del 39 e quindi si sfuga molto appunto per questa assenza e peraltro è noto che il Professor Zaccaria ha avuto una sensibilità particolare per queste tematiche che sono oggetto di questo corso, di questo incontro di studio io ecco dicevo che ringrazio tutti i presenti e un ringraziamento particolare devo farlo al Professor Cristiano Iurilli a voi tutti noto perché è stato l'organizzatore di questo incontro e d'altra parte noto anche l'interesse particolare dal punto di vista scientifico per questo sottosettore del diritto civile che ormai è diventato un vero e proprio sottosettore importante qual è quello del diritto dei consumatori tant'è che noi in questo dipartimento o facoltà pensiamo di attivare un vero e proprio corso in diritto dei consumatori peraltro al di là dell'istituzione accademica di un corso curricolare in diritto dei consumatori noi abbiamo attivato un corso di alta formazione in diritto dei consumatori e dei mercati e la manifestazione odierna si inquadra appunto nel contesto di questo corso di alta formazione che è stato promosso devo dire anche per iniziativa di Consumers Forum e qui in particolare poi ringrazio il dottor Picciolini a questo proposito e ringrazio anche le varie imprese che hanno collaborato a questa iniziativa che prevede una formazione a livello universitario di questo importante settore che va assumendo un'importanza sempre maggiore appunto nel diritto dei consumatori ma dicevo formazione che noi teniamo a sottolineare debba avere principalmente un'impronta universitaria e quando parlo di impronta universitaria intendo dire che le singole disposizioni che sono tante e a volte anche bisogna dirlo ma coordinate al di là del codice del consumo che come testo unico ha certamente avuto un ruolo notevole nella riunificazione e nella sistematizzazione di questa materia ecco è importante che coloro che si specializzano in questo settore non conoscano appunto le singole disposizioni slegate tra di loro ma abbiano una visione di insieme da un punto di vista sistematico qual è il proprio punto di qualunque scienza ecco ci sono varie iniziative che questo dibattimento sta prendendo a questo riguardo oltre quelle che ho nominato alcune iniziative diciamo di livello istituzionale per così dire altre basate anche su collegamenti interpersonali che sono sempre molto importanti a questo proposito appunto ho citato poc'anzi il dottor Iurilli mi piace qui ricordare che sta diventando il legislatore della Repubblica di San Marino perché a cui si deve la redazione di quella che auspicabilmente sarà la legge che verrà adottata da quella Repubblica che disciplina appunto il complesso sistema del diritto dei consumatori che in larga misura si ispira al diritto italiano ma che contiene anche delle novità significative che traggono origine anche dall'applicazione sul campo delle norme già vigenti in Italia e che appunto nell'applicazione pratica hanno talvolta mostrato dei profili di debolezza per così dire o dei profili di scarso coordinamento delle singole disposizioni tra di loro ecco quindi a questo punto io non posso e non voglio certamente fare una relazione sul tema dell'incontro odierno mi limito a sottolineare l'importanza del tema che viene trattato l'azione inibitoria che tutti noi sappiamo ha una sua remota tradizione nell'ambito dell'ordinamento italiano è stata accolta nel codice di procedura civile con peculiarità che sono proprio appunto qualificate nel codice di procedura civile poi questo importante strumento di tutela è stato introdotto anche nell'ambito del diritto dei consumatori proprio a maggiore protezione del consumatore o dell'utente protezione che non deve essere soltanto ovviamente una protezione di livello risarcitorio ma deve essere una protezione che valga ostacolare ostacolare un'iniziativa che si presenti che si presenti appunto come lesiva del singolo consumatore o più ancora dell'intera categoria dei consumatori quindi azioni inibitoria e poteri dell'autorità garante della concorrenza e del mercato che come sentiremo appunto dalle relazioni sono appunto poteri che possono incidere in modo significativo in questa forma di tutela ecco allora a questo punto io cedo direttamente la parola ai relatori quindi in assenza del professor Zaccadia do direttamente la parola alla professoressa Alessandra Bellelli professore ordinario di diritto civile all'università di Perugia con la quale mi piace ricordare che abbiamo avuto nei trascorsi universitari nei trascorsi universitari comuni certamente lei più giovane ma che ci hanno visto che ci hanno visto negli anni della nostra giovinezza studiare insieme al vecchio istituto il mitico istituto di diritto privato della Sapienza che allora era l'unica università di Roma e quindi ricordo la sala degli assistenti nella quale c'era un grande tavolo e tutti noi giovani studiosi appunto condividevamo questo grande tavolo quindi ricordo ancora questa occasione di incontro di allora bene e quindi c'è la parola alla professoressa Bellelli che parlerà della funzione e degli effetti dell'azione di diritto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti